Buonasera a tutti, siamo qui per Sottosopra con Daniela Palma, che è una ricercatrice e economista presso l'Istituto Enea. Stasera parleremo di Green Deal europeo, ma anche con paralleli con Green Deal americano e in altre aree del pianeta. Do la parola a Daniela Palma chiedendole di fare un minimo di introduzione su qual è l'assetto del Green Deal europeo e com'è lo stato dell'arte di questo piano al momento. Sì, il Green Deal rappresenta innanzitutto una strategia che in qualche modo l'Europa sta cercando di darsi, perché come stiamo vedendo si tratta di un processo alquanto complesso, in quanto l'obiettivo è quello di far fronte alle sfide che i paesi sono trovati davanti nel cercare di contrastare la crisi climatica. Sappiamo dei numerosi accordi che si sono succeduti sul piano internazionale, alle volte in forma più o meno vincolante, con maggiori o minori adesioni, ma con la grande difficoltà di far sì che a un certo punto i paesi riuscissero effettivamente a trovare degli strumenti per far sì che il processo di sviluppo fosse compatibile con la tenuta climatica. In questo senso il Green Deal vuole essere una risposta da parte dell'Europa, la quale quindi si pone in una prospettiva alquanto ambiziosa, cioè quella di guardare alla possibilità di mettere in atto strumenti legislativi e innovativi affinché tutto quanto il processo produttivo sia riconvertito, dando luogo a un contenimento delle emissioni e in generale a una minore quantità complessiva di inquinamento e a un miglior uso delle risorse. Il Green Deal quindi si inserisce in una... prevede quindi da questo punto di vista un'azione comune. In realtà la sfida climatica dovrebbe essere un'azione comune a livello globale e sappiamo quali sono le difficoltà di mettere in atto questo processo nel suo complesso. Questa è una prima risposta che l'Europa tenta di dare andando sostanzialmente a mobilitare delle risorse comuni affinché queste poi possano diventare anche una leva per investimenti all'interno dei singoli stati e per far sì che appunto queste trasformazioni strutturali che dovrebbero cambiare sostanzialmente le modalità di consumo e produzione si possano effettivamente attuare. Ora, questo Green Deal nasce, in qualche misura viene annunciato e si avvia nel momento in cui subentra la crisi pandemica, l'attuale crisi pandemica e questo ha creato apparentemente una sorta di interruzione perché sembrava che l'attenzione dovesse essere necessariamente distratta da questo straordinario fenomeno. L'Europa invece da questo punto di vista non si ferma, non si ferma ma coglie sostanzialmente la crisi pandemica come un'opportunità per rinforzare quelle che sono le premesse che sono state innestate nel Green Deal, cioè il fatto di mobilitare tutta una serie di risorse che fanno capo al bilancio europeo nell'ambito di una sorta di contrattazione per quanto riguarda i fondi e le modalità di erogazione. Ora, questo ci porta a considerare un ulteriore fronte di intervento che è quello rappresentato dal cosiddetto Next Generation EU che guarda a quell'insieme di investimenti e di risorse che vengono in qualche modo concordati al fine di far fronte ai danni provocati dalla crisi pandemica e al rilancio del processo di sviluppo. Ma nell'ambito di questo rilancio si vede anche l'opportunità di rinforzare quelle che sono le risorse destinate agli obiettivi cosiddetti climatici, agli obiettivi che devono convergere sulla realizzazione di una sorta di green economy. Da questo punto di vista quindi il Green Deal viene rielaborato all'interno di una strategia più complessa ma che vede enfatizzare comunque l'importanza delle problematiche climatiche e ambientali in genere. Quindi questo è lo stato dell'arte ed è al momento un assetto di carattere esteretico generale con la definizione grossomodo di tutta una serie di fondi e di quote percentuali che dovranno essere destinate a questo scopo, grossomodo complessivamente se si guardano a tutte le risorse dei bilanci europei, incluso quello Next Generation EU, siamo quasi a un terzo praticamente del bilancio. E questo è il punto di partenza, è un punto di partenza che però non è tutto perché esistono poi tutta una serie di problemi attuativi ma soprattutto bisognerà anche poter misurare la capacità dei diversi paesi effettivamente di investire e andare a realizzare quelle che sono tutta una serie di investimenti che sono finalizzati sostanzialmente agli obiettivi ambientali e climatici in generale. Ok. Quindi sono già partite delle iniziative diciamo riconducibili quindi questo Next Generation fa parte diciamo del percorso del Green Deal. Sì, il Next Generation sostanzialmente non esula non esula praticamente da quelle che sono le coordinate del bilancio europeo nell'ambito del quale è stata data un'attenzione particolare alle questioni ambientali e climatiche con la strategia del Green Deal il Next Generation si innesta sostanzialmente nel bilancio europeo con modalità che prevedono sostanzialmente anche per così dire un maggior favore dal punto di vista finanziario per alcune parti c'è una sorta di mutualizzazione del debito a livello europeo una novità diciamo nell'ambito della gestione europea e nello stesso tempo mettono in evidenza una ulteriore attenzione per quelli che sono gli obiettivi climatici cioè ci si rende conto che naturalmente un evento straordinario così come quello della pandemia non cancella quelle che sono le problematiche legate all'ambiente e al clima e anzi mette in evidenza quelle fragilità che si sono poi manifestate a ogni piesto spinto nell'ambito delle diverse crisi che hanno attraversato l'Europa e la necessità quindi di rilanciare un processo di sviluppo cogliendo anche l'opportunità di una riconversione produttiva e il fatto che questa riconversione possa anche dar luogo a maggiori stimoli proprio per lo sviluppo e l'occupazione in genere allo stesso tempo rendendo anche molto più compatibile lo stesso processo di sviluppo con quelle che sono sostanzialmente gli obiettivi del contenimento delle emissioni e quindi il raggiungimento del rispetto dell'ambiente questo viaggia quindi in un quadro complessivo a livello europeo che via via dovrà iniziare il suo iter ci sono attualmente alcune allocazioni orientative come dicevo appunto siamo per un terzo per quelli che sono gli obiettivi climatici naturalmente sappiamo che i fondi europei in generale sono solo una parte delle risorse che poi effettivamente ciascun paese poi va a mobilitare sul piano degli investimenti dovrebbero rappresentare comunque una leva quindi sarà poi da vedere sul piano attuativo come i diversi paesi si troveranno di fronte alla diciamo situazione di realizzare appunto questi investimenti anche a fronte della disponibilità delle proprie risorse di bilancio a livello nazionale e delle proprie particolari esigenze a livello di struttura produttiva quindi nel concreto funziona che un paese presenta una domanda relativa a un progetto e gli vengono dati dei fondi con dei grant o dei pressiti in questo modo funziona? I paesi stanno in questa fase come sappiamo anche l'Italia devono andare a definire quelli che sono i loro piani sulla base di questo ci sono tutta una serie di allocazioni che sono state già decise per quanto riguarda Next Generation EU nell'ambito poi del varo complessivo del bilancio europeo si vedrà poi nello specifico via via che saranno poi definite le diverse destinazioni delle risorse comunque diciamo questo attiene a una parte non per sminuire attiene a un aspetto tecnico ma che deve rispondere naturalmente di questioni anche a livello di paese molto più strategiche andando a capire quali sono sostanzialmente i punti di forza e di debolezza della struttura produttiva di ciascun paese è evidente che nell'ambito dell'Unione Europea ci troviamo di fronte a situazioni molto diversificate e alle volte che necessitano di un'intensità di sforzi molto maggiore affinché anche a fronte diciamo di quello che è un obiettivo comune del realizzare diciamo un processo di sviluppo complessivo compatibile con le necessità ambientali e climatiche ciascun paese naturalmente parte da condizioni di partenza molto differenti e di questo bisogna tener conto certo c'è anche un tentativo di perché l'emergenza covid ha messo in luce come comunque tutti i paesi in un mercato globalizzato siano dipendenti gli uni dagli altri per cui le catene di valore tutto questo discorso c'è anche un tentativo di un po' di costruire delle catene di valore interne all'Europa essendo un mercato unico per quanto riguarda Next Generation per esempio ma anche il Green Deal visto che è molto bogato su una ricostruzione tra virgolette ma sul discorso delle catene di valore diciamo che le catene di valore si sono molto per così dire allungate nel corso del tempo da quando ha aumentato il peso della globalizzazione produttiva e questo nella fase attuale della crisi pandemica che è molto particolare perché presentato ha comportato uno shock sia dal lato della domanda che dell'offerta ha fatto sì che si diciamo emergesse una sorta di fragilità del sistema di produzione internazionale così organizzato e quindi in qualche modo si è pensato che questo potesse far riconvertire il sistema produttivo in aree più diciamo autocontenute non non diciamo attualmente non come dire la situazione sembra abbastanza discussa e controversa da questo punto di vista pesano a mio avviso delle realtà più importanti cioè nel corso di questi anni di questi decenni anzi a fronte proprio del processo di globalizzazione produttiva che ha in qualche modo coinvolto in un processo in una crescita dello sviluppo mondiale i paesi di nuova industrializzazione si sono anche modificate le capacità di questi paesi e di diventare si stessi molto più autonomi cioè questi paesi sono 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 decollati anche attraverso l'impulso degli investimenti che provenivano dai paesi occidentali ma hanno saputo poi nel seguito costruire una propria capacità di sviluppo andando ad incrementare le competenze soprattutto in ambito tecnologico che è diventato un fattore decisivo diciamo nel confronto competitivo a livello mondiale e non è un caso che si siano definendo nuovi equilibri recentemente sono stati anche definiti nuovi accordi commerciali che riguardano addirittura messi insieme Cina Giappone e Corea a definire proprio delle nuove non solo aree di scambio ma delle nuove piattaforme economiche con una loro capacità come dire propositiva e di confronto a livello internazionale quindi come si definiranno le aree produttive un nuovo equilibrio mettiamo geoeconomico dal punto di vista produttivo non dipende soltanto dagli esiti di questa pandemia che probabilmente avrà avuto il merito di far da detonatore di questo tipo di processo e dovrà soprattutto confrontarsi con un nuovo percorso che hanno già iniziato a intraprendere che già stanno percorrendo i paesi di nuova industrializzazione quando dico nuova industrializzazione mi riferisco soprattutto ai paesi asiatici al sud-est asiatico e all'importanza che ha acquisito nel corso del tempo la Cina andando diciamo a determinare proprio un nuovo bilanciamento a livello mondiale dove in questi termini non stiamo parlando soltanto dell'Europa ma anche della posizione che potranno dello spazio che dovranno dovranno riuscire a mantenere anche gli stessi Stati Uniti Ok e qual è nello specifico il ruolo dell'innovazione all'interno della Green Deal europeo? Il ruolo dell'innovazione diciamo è fondamentale non solo per quanto riguarda il Green Deal europeo poiché diciamo la possibilità di andare come dire a modificare un intero paradigma di produzione e consumo come deve essere nel momento in cui si pensa diciamo di andare a modificare strutturalmente un modello di sviluppo tutto questo passa per la tecnologia e l'innovazione un processo che naturalmente non inizia oggi per quanto riguarda il tema dell'economia verde ci sono stati moltissimi sviluppi e sempre più ve ne saranno per quanto riguarda le tecnologie che sono destinate al contenimento delle emissioni per quanto riguarda il contenimento di tutto ciò che inquina all'interno dei diversi processi produttivi per quanto riguarda un migliore utilizzo delle risorse in generale e questo naturalmente va visto in un insieme integrato di tecnologie interconnesse e di modalità produttive che rappresentano fondamentalmente un sistema che non può essere visto a comparti stagni ma che necessita sempre più di mettere in campo nuove conoscenze e di saperle padroneggiare e di saperle presidiare dal punto di vista tecnologico quindi ciò che accennavo prima cioè il fatto che anche i paesi di nuova industrializzazione abbiano fatto molto leva anche con un vantaggio di come si dice late commerce sul piano internazionale del sviluppo tecnologico sarà senz'altro un elemento di confronto decisivo e alcuni fatti già parlano chiaro da questo punto di vista perché c'è stato e questo lo si è visto nonostante le crisi che si sono succedute anche nell'ultimo decennio parliamo per esempio della crisi finanziaria del 2007 2008 con delle fasi di depressione economica o comunque laddove la crisi è stata meno grave rallentamento economico gli investimenti nelle nuove tecnologie per per esempio la produzione da energia da fonti rinnovabili si sono incrementati e si è incrementata anche come dire l'interessamento in queste aree tecnologiche da parte dei paesi asiatici della Cina che hanno pure investito stanno continuando a investire in questo senso anche se attualmente dipendono considerato comunque l'elevato consumo energetico da fonti tradizionali fossili ma stanno investendo in questa direzione e quindi diciamo continueranno già sono molto presenti a livello mondiale raggiungendo sostanzialmente dei record per l'acquisizione per la produzione di queste tecnologie ed è qui quindi che il Green Deal inteso se vogliamo in senso globale si salda con un problema più generale di sviluppo al quale guardano tutti i paesi sarà decisiva sicuramente adesso la nuova entrata in campo degli Stati Uniti dopo praticamente la parentesi che è riguardato la presidenza Trump che era abbastanza avversa a trattare le questioni diciamo gli accordi climatici e quindi guardare a questo fronte però sicuramente si può dire che anche dal punto di vista economico anche dal punto di vista del confronto se vogliamo competitivo su un piano generale questo dell'area della riconversione tecnologica ai fini ambientali sarà un grande terreno di confronto infatti arriviamo già alla prossima domanda cioè quali sono un po' i punti di contatto tra Green Deal americano Green Deal o comunque percorso verso le tematiche green cinese cioè quali sono i punti di raccordo diciamo tra i vari le varie iniziative delle varie aree commerciali diciamo ma i punti di raccordo se vogliamo allora se guardiamo la cosa da da un punto di vista dal punto di vista degli obiettivi questi per così dire tendono un po' a essere gli stessi cioè devono convergere sostanzialmente su un potenziamento degli strumenti per far fronte diciamo alla crisi ambientale alla crisi climatica però ci sono aspetti che diventano più interessanti se si vanno a considerare i metodi di attuazione ecco mettiamola così di queste strategie pur riconoscendo tutti l'importanza della la necessità di una di una profonda riconversione di sistemi produttivi in chiave tecnologica e e questo attiene fondamentalmente all'approccio delle politiche al 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 peso che si attribuisce alle modalità di intervenire all'interno del sistema economico da ottiche in qualche misura diverse l'Europa da questo punto di vista si trova in una fase di passaggio perché si è dovuta già confrontare con una crisi economica molto profonda che ha messo in discussione diciamo i limiti dell'economia di mercato e tuttavia non ha cambiato radicalmente quelle che sono i principi base della costruzione europea che ancora fa leva su una visione in cui esiste sostanzialmente una fiducia nel mercato e una sorta di capacità del mercato di autoregolarsi e tutto questo lo abbiamo visto attraverso il passaggio delle politiche di austerità che naturalmente hanno dato esiti negativi e adesso per certi versi l'Europa sembra rapportarsi seppure dopo dei confronti piuttosto forti e aspri tra visioni diverse nell'ambito dei diversi paesi di cui si compone rispetto a questo contesto è vero comunque che sono stati fatti dei passi in avanti questi passi in avanti sono preceduti anche se vogliamo da alcuni cambi di visione nell'ambito della discussione di tipo più accademico sotto questo punto di vista cioè un maggiore scetticismo quindi per quanto riguarda le capacità come dire di autoricomposizione dei mercati a fronte del diciamo l'emergere di crisi economiche e quindi diciamo il dibattito si è spostato maggiormente su diciamo discussioni che tendono a considerare quello che può essere il ruolo dell'intervento dello Stato in economia tutto questo tuttavia non modifica attualmente radicalmente il contesto europeo la costruzione europea che è ispirata a questo tipo di visione ma la sospende in attesa di trasformazioni che si sperano in qualche modo avverranno sappiamo ad esempio che il patto di stabilità che vincola la spesa all'intervento pubblico nell'ambito dei diversi paesi i famosi vincoli di Maastricht è stato sospeso ma appunto è stato sospeso non abolito ci sono adesso delle deroghe che per quanto riguarda alcuni aspetti stringenti della capacità di intervento dell'Europa anche in aiuto di quelle che sono le necessità per esempio di supporto all'industria e da parte dei singoli stati e ovviamente anche da parte dell'Europa stessa tutte alcune modifiche intervengono nell'ambito next generation you ma non abbiamo diciamo degli elementi eclatanti dal punto di vista per così dire per dimensione sarebbero necessari dei passi in avanti molto più decisivi e quindi possiamo soltanto dire che l'Europa in questo momento anche forse grazie in parte alle necessità dettate da questa crisi in parte forse guardando a più largo raggio per quelle che sono diciamo le difficoltà di inserirsi in un contesto mondiale che si è molto allargato sia in una fase di transizione viceversa se guardiamo ai paesi asiatici ma se guardiamo soprattutto al modello cinese dove la Cina naturalmente è un attore che si è imposto singolarmente e che vuole determinare un nuovo equilibrio nell'est del mondo ci troviamo di fronte a un atteggiamento diverso dove sostanzialmente c'è un ruolo dello Stato molto più importante molto più decisivo sebbene sempre in una sorta di equilibrio con l'economia del mercato siamo naturalmente al di fuori di quelle che sono le intricate e stringenti regole europee in questo senso il modo di porsi di fronte anche alle tematiche di investimenti così grandi e così onerosi come sono quelli che devono essere previsti se si vuole effettivamente aggredire un cambiamento del modello di sviluppo sono particolarmente interessanti se si guarda la Cina la Cina da questo punto di vista così come anche gli altri paesi asiatici vanno menzionati anche per i grandissimi sforzi e il grandissimo impegno che sono stati spesi nell'ambito degli investimenti in ricerca e sviluppo è veramente straordinaria l'escalation della Cina degli ultimi anni per cui complessivamente l'impegno in ricerca e sviluppo che costituisce comunque una premessa a una reale capacità di innovazione ecco questo impegno ricerca e sviluppo paragonato al PIL della Cina è superiore già da due anni a quello che è mediamente l'impegno di tutta l'Unione Europea cioè le spese ricerca e sviluppo dell'Unione Europea sul PIL dell'Unione Europea intesa quindi come aggregazione di diversi stati è inferiore a quello della Cina la Cina quindi ha fatto una vera corsa in questo senso ed è in questo senso che si vanno orientando anche le strategie se vogliamo del del Green Deal cinese sì siccome comunque il modello economico cinese come dicevale è abbastanza diverso da quello europeo ci saranno anche delle differenze in questo senso mi aspetto nel senso appunto il capitale privato rispetto a quello pubblico e questo genere di bilanci diciamo sicuramente allora diciamo che nella nazione della Cina non c'è una negazione dell'economia di mercato sicuramente c'è un grande presidio in tutte quelle che sono le aree strategiche della produzione e quindi si presume che questo grosso modo rimanga l'impianto che la Cina si dà dal punto di vista dell'Europa come ripeto adesso ci troviamo in una fase che in qualche modo prevede che ci siano investimenti naturalmente una maggiore disponibilità di leve di risorse da parte dell'Europa ma che non sostituiscono e che non possono intervenire da sole se non accompagnate anche dallo sforzo dei singoli stati quali poi si confrontano con i loro singoli bilanci quali devono inserirsi comunque in un contesto europeo che chiede conto sostanzialmente ancora delle regole di bilancio per quanto momentaneamente sia stato sospeso il patto di stabilità e in ogni caso questo questo questi aspetti naturalmente ritorneranno diventeranno un tema di discussione perché come sappiamo che a livello europeo da questo punto di vista la discussione è molto accesa però ecco quello che sicuramente farà la differenza sarà anche la capacità da parte dell'europa di tener conto delle in questa revisione anche delle proprie regole di spesa del vincolo di bilancio di quelle che sono proprio le caratteristiche delle spese cioè saper distinguere quelle che sono le spese che vanno in investimenti e che sono capaci anche di attivare in modo particolare la crescita del reddito da questo punto di vista per esempio si è parlato già da un po' di immaginare delle regole che esonerassero praticamente alcune spese di investimento dal computo dei vincoli di bilancio e da questo punto di vista potrebbe essere interessante se si riprendesse a considerare in quest'ambito anche la possibilità di scomputare per esempio quelli che sono gli investimenti in ricerca e sviluppo come dicevo questo è diventata una variabile realmente strategica e sicuramente è al centro di una grande attenzione ma non da ora nello sviluppo delle economie asiatiche lo è naturalmente anche per quanto riguarda gli Stati Uniti e l'Europa diciamo al suo interno ha una situazione molto più diversificata con grandi spaccature fra paesi del nord e paesi diciamo dell'area mediterranea che da questo punto di vista dovrebbero diciamo immettersi in un processo quantomeno di diciamo raggiungere nuovi obiettivi più realistici nell'impegno in questo tipo di investimenti certo invece per quanto riguarda il modello americano in che cosa differisce da quello europeo se ci sono delle differenze oddio il modello americano diciamo ha il vantaggio di essere un modello stiamo sempre parlando di un di un di un paese e diciamo tanto possiamo dire diverso dalla Cina ma comunque sia che ha una sua autonoma capacità di decisione sulla sulla spesa e quindi di in qualche modo modulare anche l'intervento a seconda di quelle che sono le necessità del contesto così come si è visto per esempio nell'ambito della precedente crisi finanziaria e quindi da questo punto di vista diciamo che l'Europa è quella che viene a trovarsi in una situazione di maggiore difficoltà poiché in qualche modo deve trovare una via di uscita per riuscire a far sì che tutto il sistema non soffra delle rigidità che sono state immesse attraverso i vincoli di Maastricht sostanzialmente sì infatti questo forse è uno dei punti critici del Green Deal ma anche in generale della politica economica europea penso sia un po' una delle critiche mosse all'Europa più frequentemente cioè il fatto che ci siano questi vincoli e quindi e poi questa situazione come diceva lei molto diversificata dei vari paesi però con il vincolo esterno della banca centrale quindi in questo senso quali potrebbero essere altri punti critici del Green Deal proprio per questa struttura tipicamente economica europea beh altri punti critici la struttura il problema della struttura quella che vabbè solitamente si dice governance economica dell'Europa direi che è il problema fondamentale il problema fondamentale che deve essere seriamente rivisto anche perché in buona misura se guardiamo alla questione del Green Deal se guardiamo alla necessità di mettere in campo investimenti e mettere in campo misure che consentono di trasformare in maniera più o meno radicale le modalità di funzionamento del sistema produttivo allora è chiaro che questa situazione non vede tutti i paesi alla stessa stregua ce ne sono alcuni che in qualche modo diciamo idealmente paesi dell'area del nord Europa non solo i grandi paesi la Germania sicuramente ma anche i paesi più piccoli che hanno costruito nel corso del tempo un assetto produttivo molto più coerente con quelli che sono gli avanzamenti tecnologici sono presenti in settori produttivi mettiamo così ad alta intensità tecnologica e i paesi del sud Europa tra cui includiamo anche l'Italia sono invece più deboli da questo punto di vista e questo significa che lo stesso investimento in tecnologie sebbene finalizzate al contrasto del cambiamento climatico può in qualche modo aumentare l'onere di questi paesi dal punto di vista per esempio dei conti con l'estero un paese che esce dal mercato perché adesso estremizzo il ragionamento la sua struttura produttiva è tale da non rispondere alla domanda di beni e servizi di tecnologie in questo caso che si incrementeranno sempre di più è un paese che può vedere diciamo peggiorare anche i conti con l'estero e come sappiamo questo rappresenta in qualunque paese un vincolo allo sviluppo questo tipo di asimmetria riguarda per l'appunto generale i paesi del sud Europa nel confronto con i paesi del nord Europa ed è sicuramente una situazione che è di lì ad emergere e anche quelli che sono le risorse messe in campo dall'Europa come ho detto prima non hanno un potere taumaturgico perché sono una parte di risorse che dovrebbero far leva su un contesto nazionale dotato di autonome risorse il quale a sua volta si lega poi a un contesto europeo il fatto che alcuni paesi siano rimasti più indietro e sono ancora arretrati ancora di più a seguito della precedente crisi internazionale fa sì che non si parta tutti allo stesso modo e quindi si può capire che allo stato attuale se l'Europa pensa di potersi muovere diciamo in maniera unitaria per far fronte per insomma per per dare pratica attuazione a questa strategia non potrà non considerare quelli che sono i suoi elementi fondativi quindi mettere in ridiscussione quantomeno il funzionamento dei trattati qualcosa diciamo è nella è in discussione e in qualche modo trapela dal modo in cui l'Europa ha reagito anche rispetto alla passata crisi per quanto riguarda per esempio l'azione della banca centrale che continuamente ha in qualche modo espresso delle capacità di intervento che esulavano sostanzialmente da quello che erano i suoi mandati quindi si è visto che l'Europa in qualche modo da questo punto di vista ha vacillato probabilmente forse questo ce l'auguriamo dovrà essere spinta a fare di più e meglio anche perché il confronto sul piano internazionale adesso si farà molto più aspro cioè come dicevo l'area asiatica è diventata molto più imponente e molto più coesa e soprattutto è un'area che si è sviluppata molto sul potenziale anche economico della capacità di presidiare i mercati che si fonda sullo sviluppo di nuove tecnologie questo non da oggi tanto tanto più va detto perché diciamo è una modalità che si è radicata nello sviluppo di questi paesi che adesso naturalmente si sta rinforzando anche attraverso degli accordi molto importanti come sono quelle delle ale commerciali quindi lei lo vede possibile diciamo uno slittamento uno spostarsi dell'atteggiamento europeo verso un modello un pochino meno cioè per esempio togliere alcuni vincoli di bilancio e diciamo eliminare un po' questo tipo di atteggiamento liberista se vogliamo è possibile secondo lei è plausibile che succederà nel futuro abbastanza immediato ma diciamo che non non voglio fare del facile ottimismo e d'altra parte abbiamo visto che ci sono diciamo la situazione molto resistente noi ci siamo trovati di fronte a una crisi economica imponente quella del 2007-2008 effettivamente ci si sarebbe aspettato che l'Europa avesse ripensato gli estremi del 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 proprio modello così non è stato esattamente cioè il la riflessione se vogliamo finora si è mossa più ad un livello di tipo accademico se vogliamo e naturalmente sul piano poi della realizzazione delle politiche europee tutto questo processo sta facendo molto fatica ma sta facendo molto fatica perché è un processo che ha potuto radicarsi grazie anche a un forte radicamento culturale che deriva dall'acquisizione di una visione dell'economia che guarda al mercato e alla capacità che il mercato appunto ha di autoregolarsi quando parliamo di neoliberismo parliamo essenzialmente di questo anche se poi dovremmo aprire anche una piccola parentesi perché è vero che si guarda al mercato con fiducia e si fa il perno di tutto il si fa il mercato il perno di tutto il processo economico ma se il mercato non funziona non si pensa che il mercato sia qualcosa da sospendere da correggere mettiamola così semplicemente si guarda al mercato che non funziona come ad una temporanea defaianza e allora a quel punto lo Stato interviene lo Stato neoliberista è quello che interviene in soccorso del mercato e quindi non è uno Stato che non interviene quello che appare particolarmente evidente che però poi al mercato si dà la parte principale quindi c'è un problema di visione economica che ha potuto radicarsi in un lungo corso di anni e naturalmente come sappiamo quelli che sono gli aspetti che gli aspetti culturali sono veramente quelli che determinano poi anche le azioni delle politiche se radicare degli aspetti culturali così profondi nell'acquisizione di una visione economica di questo tipo sicuramente non è cosa da poco alcuni elementi sembrano come dire scorgersi anche nella definizione la next generation new l'idea che si possa mutualizzare un debito a livello europeo abbiamo visto che c'è stata l'opposizione da parte di molti paesi da un punto di vista quantitativo probabilmente sono poche cose sono briciole giova pensare che questo sia un passo verso una una riflessione e un cambiamento più profondo quello che penso è che questo cambiamento sicuramente non è di per sé facile però ripeto a mio avviso l'Europa non gioca in solitario e gli equilibri mondiali nel frattempo soprattutto dopo questa crisi che l'ha vista vacillare hanno visto rinforzarsi altri soggetti e mentre fino a poco tempo fa parlavamo di una Cina che sicuramente già da sola riusciva a fare la parte del leone il fatto che ci sia anche un compattamento di un'area asiatica in senso più allargato è un elemento da tenere in conto e che quindi secondo me l'Europa dovrebbe considerare seriamente anche per quelle che sono i diversi atteggiamenti nelle politiche assunti dai paesi asiatici per cui penso che in qualche misura ci saranno anche delle riflessioni indotte da questo altrimenti anche i risultati dal punto di vista economico possono essere voglio dire diciamo molto rilevanti e in qualche misura danneggiarla anche nel suo insieme ma forse inclusi anche i paesi forti insomma anche la Germania che ha avuto una capacità straordinaria capacità di presidiare i mercati grazie anche a una diciamo a una capacità di posizionamento nel mercato internazionale si troverà diciamo a attori extraeuropei che avranno connotati un po' diversi e quindi anche questo potrebbe cambiare gli equilibri quindi è una resistenza più che altro culturale secondo lei il fatto di non voler passare a un modello diverso sì questi elementi culturali sono molto forti sono praticamente alla radice di una visione dell'economia che in qualche misura va oltre anche il semplice fatto di sostenere che il mercato ha una come dire una posizione centrale ed ha una sua capacità diciamo così di autoregolazione è proprio una una visione una visione complessiva che porta anche a vedere l'economia e la scienza economica come un campo di indagine quasi si trattasse di una di un'area delle scienze naturali e questo ha fatto sì che anche per quanto riguarda se vogliamo il consenso e la capacità di accettazione delle crisi da parte della della popolazione giocassi un suo ruolo se noi pensiamo che una crisi sia come un temporale un uragano che fa danni fa danni anche molto grossi ma a un certo punto passa e poi si ricostruisce in qualche modo noi pensiamo che l'uragano vabbè è scritto nelle cose e che quindi sostanzialmente è qualcosa di straordinario ma di passeggero ma non attiene al modo in cui noi regoliamo non attiene a quelle che sono le nostre azioni ecco pensare che l'economia sia qualcosa quasi di ascrivibile alla fisica rappresenta uno degli elementi abbastanza fondativi di questa diciamo visione culturale e che ha reso anche molto più difficile scardinare un certo tipo di posizioni mentre invece se assumiamo che tutto quello che noi facciamo e che ciò che si determina incluse le crisi economiche lo sappiamo la crisi dei subprime è stata esplosa perché c'era un grave squilibrio se vogliamo nella distribuzione del reddito semplicemente l'economia è stata drogata affinché il mercato potesse essere soddisfatto bene se assumiamo che tutto questo non avviene per natura ma avviene perché esistono delle decisioni umane perché esiste una dimensione storica e sociale dell'agire economico naturalmente tutto questo cambia e si capisce che il mercato è un'istituzione come le altre e quindi un soggetto stato diciamo si rapporta al mercato in una dimensione che è determinata è una dimensione storicamente determinata una connotazione sociale e non è per nulla legata a qualcosa che è iscritto nell'universo come si vorrebbe pensare per cui sicuramente c'è anche necessità di una diciamo riconversione culturale da questo punto di vista per quanto riguarda se andiamo sulla Cina naturalmente la Cina ha una sua storia in quel caso c'è una storia che comunque pone al centro una grossa presenza diciamo dell'intervento pubblico anche se naturalmente è un percorso non confrontabile neppure storicamente con quello dell'Europa ma almeno da questo punto di vista parte avvantaggiata sì va bene se le vuole aggiungere qualcos'altro altrimenti possiamo anche concludere qui secondo me ma io direi che non ci sono potremmo continuare a parlare per tanti aspetti perché molti possono essere gli stimoli però ecco diciamo che quello che penso di poter dire concludendo che questo del Green Deal mentre da un lato diciamo è chiaramente l'acquisizione da parte dell'Europa di una problematica che è stata ampiamente discussa da anni e molto controversa quella climatica con anche la difficoltà di poter mettere in atto degli strumenti efficaci a questo fine sicuramente questo deve essere apprezzato e in qualche misura vediamo che poi il tema è ripreso da più parti a livello mondiale e quindi diciamo l'Europa non poteva esimersi in qualche misura dall'essere presente su questo terreno quello che si può dire è che questo punto che il Green Deal sia in buona misura il punto di partenza soprattutto per una riconversione della costruzione europea a maggior ragione che adesso non viene rimesso in discussione ma anzi si pensa di rafforzarlo in termini di impegno di risorse nell'ambito delle misure straordinarie che si sono volute disegnare per in qualche modo alleviare la situazione creata dalla crisi pandemica quindi diciamo che il Green Deal può assumere in questo senso il valore di una fase di transizione molto importante e che si spera che in qualche modo faccia da leva per mobilitare altri processi che come abbiamo detto sono quelli che riguardano la costruzione generale della governance europea va bene la ringrazio in nome di sottosopro diamo buonasera a tutti e grazie per averci ascoltato grazie a voi grazie a tutti e grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti